La laurea Quello che le possiamo proporre sono sei mesi di stagio qui da noi Ovviamente non sono previsti rimborsi spesi Sarebbe disponibile nei weekend festivi? Non retribuito nessuna garanzia Stagio, stagio, stagio Io sono Ilenia E sono dieci giorni che non studio Ecco però No, partita IVA Io non sono un imbicina Sono un laureato E quando parli con me mi devi chiamare dottore Questa è una citura che regola lo sviluppo del feto Potrei rimandare in parto a seconda delle sue esigenze lavorative Monolocale Semi interrato, semi arredato 700 euro escluso e spese Nemmeno un buco sottoterra ci possiamo permettere Con i contratti precari non si può avere una famiglia Adotta un pensionato precario Ah bello, ma che pensi di essere l'unico precario al mondo? Non è un giro. Non è un giro. No, partita non si può avere una famiglia Non si può avere una famiglia E non soit un giro. E non ho un giro. Grazie a tutti.